Farsi interprete in sede di conferenza delle regioni, delle stanze dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e dei bisogni dei cittadini lucani, garantendo la rete degli sportelli postali in tutti i comuni della Basilicata. E l'impegno è chiesto all'Aggiunta regionale con la mozione proposta dai consiglieri Romaniello e Rosa, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, con la quale si critica la decisione di avviare la seconda tranche di collocamento sul mercato del capitale di poste italiane. Il piano, si sottolinea nel documento, porterebbe ad una razionalizzazione in chiave privatistica della società e ciò è in netto contrasto con le caratteristiche del servizio pubblico, con grave danno per gli utenti. Emblematico per quanto già è accaduto in Basilicata con la decisione dell'azienda di mantenere una sola unità per tutta la regione per la linea editoria. L'esecutivo viene invitato a tesi ad assumere i provvedimenti al fine di rivedere l'accordo sui nuovi modelli di recapito della posta ed include nella linea plus i comuni lucani con oltre 5.000 abitanti.